Ma noi non votiamo affatto contro il governo, noi non votiamo nemmeno contro Berlusconi, noi votiamo per la legge, per l'attuazione di una legge, che peraltro questo Parlamento ha votato quasi all'unanimità. Mi vengono i brividi a sentire molti parlamentari, senatori, deputati che hanno votato la legge e oggi ne parlano come fosse un'aberrazione e come fosse il Pol Pot. L'hanno votata, non hanno mai detto nulla, non hanno mai contestato nessun principio sulla retroattività, sulla costituzionalità. Adesso questa legge per molti diventa un mostro, è una legge dello Stato perfettamente costituzionale che può e deve essere applicata a tutti i cittadini che sono tutti uguali davanti alla legge. Domani sera, dopo il voto, il governo Letta ci sarà ancora? E questo dipenderà dal PDL se ancora una volta confermerà di essere il partito che sposa esclusivamente le vicende giudiziarie e umane di Berlusconi o se invece è il partito che vuole assicurare ancora un periodo di tempo di governo di servizio. Il capogruppo Speranza ha detto che lui è per il voto segreto in aula. Il capogruppo Speranza intanto sta alla Camera, votiamo al Senato, è facile esprimersi quando poi sono altri a doversi confrontare. Io sono sempre per il voto palese e tuttavia quando si tratta di persone i regolamenti prevedono il voto segreto. E siccome sono per le regole, comunque bisognerà rispettare anche questa regola che i rami del Parlamento si sono sempre dati e che hanno anche i consigli comunali, i consigli provinciali, i consigli regionali. Se fossimo tutti illuminati e nessuno chiedesse il voto segreto e quindi nessuno volesse utilizzare quanto previsto dal regolamento, si voterebbe in maniera trasparente. Ma io non ho paura del voto segreto. Io credo che l'applicazione della legge e della sentenza conseguente sarà quanto il Senato avrà la forza di portare avanti. Secondo lei si dimetterà Berlusconi anche alla luce del fatto che...